Unica data in Calabria per famiglia, l'intenso e coinvolgente spettacolo andato in scena al Teatro del Grillo di Soverato, diretto da Claudio Rombolà. Sul palco un gruppo di attori che formano la Fortapache Cinema Teatro, l'unica compagnia teatrale italiana stabile, costituita da attori, ex detenuti, oggi professionisti, è fondata nel 2014 da Valentina Esposito, regista e drammaturga della PS, che presenta la storia di una famiglia che si riunisce per il matrimonio dell'unica figlia femmina. Alla festa si ritrovano parenti lontani, padri, figli e figli dei figli, prigionieri di rancori, di traumi irrisolti, ma anche i morti che da una realtà all'altra osservano la vita e la morte. Questa esperienza nasce da molto lontano, appunto da 15 anni di lavoro interno e dopodiché nel 2014 abbiamo deciso di fondare una compagnia esterna che potesse dare proseguimento a quanto avevamo realizzato negli anni precedenti e potesse anche accogliere persone ancora ex detenute, detenute in misura alternativa. Questo è stato l'inizio, dopodiché lavorando all'esterno abbiamo chiaramente integrato anche attori professionisti, studenti dell'università, noi continuiamo a lavorare all'università e sono due anni che portiamo questa esperienza in torno nazionale, ecco perché siamo anche qui al Teatro del Grillo assoverato. Prima volta in Calabria, questo è un debutto regionale, devo dire che questi ultimi due anni sono stati davvero più preziosi perché ci hanno in qualche modo inserito nel circuito tradizionale riuscendo a farci in qualche modo dimenticare l'inizio e quindi a lasciarci il carcere alle spalle e a poter dire che questo è teatro. Questo spettacolo parla della famiglia, delle relazioni familiari, c'è tanto di ogni persona che ha lavorato alla messa in scena e al testo in questo lavoro. C'è molto del biografico degli attori presenti però c'è anche il tentativo di rendere universale questa storia e dunque raccontare le dinamiche familiari creando un ponte con lo spettatore che chiaramente in qualche modo riesca ad essere dunque l'esperienza comunque una possibilità di indagine, di rivisitazione della propria esperienza ma allo stesso tempo permetta agli spettacoli di creare una comunicazione con chi guarda e dunque approdare nel territorio del teatro tout court. Parliamo di teatro sociale importante per chi lo fa ma anche per lo spettatore che vi assiste. È importante per chi lo fa, per chi lo guarda e io credo che sia anche una modalità di approcciarsi al teatro che può in qualche modo portare un territorio di ricerca per il teatro in generale, può portare anche delle forme di rinnovamento nel teatro tradizionale, riagganciare l'esperienza teatrale alla realtà e ai soggetti che la portano in scena, riagganciarla sempre e questo rende più autentico il processo creativo e più autentica la relazione con lo spettatore. Nei contesti penitenziari l'attività teatrale è una valida opportunità di reinserimento sociale ma anche arricchimento culturale oltre ad essere un deterrente alla devianza e alla ricaduta. Fortapash è qualcosa in più, è un progetto che collabora anche con una serie di produzioni cinematografiche e televisive per cercare di dare continuità lavorativa agli attori della compagnia. Il teatro mi ha salvato la vita, è quanto ha dichiarato uno di loro ai nostri microfoni, è Giancarlo Porcacchia. Il mio coinvolgimento in questa compagnia parte da lontano, parte da che io ero in cattività, parte dal carcere di Rebibbia, mi fu proposto di fare teatro, all'inizio ero timido, non volevo, poi l'alternativa era stare vent'ora e mezzo chiuso, dico vabbè, fammici andare, che me cambia. E invece mi ha cambiato tutto, mi ha cambiato totalmente la vita, tutto, tutto. con me è stato fatto un miracolo che spero ci ripeti con molti altri che si avvicinano dal carcere al teatro perché ti cambia completamente, è catartico, è introspettivo, ti tira fuori quello che tu mancos hai da averci, per cui a me mi ha cambiato la vita, io senza teatro non ci posso più stare. E adesso brindiamo a Viola, a Matteo e al loro futuro. E dai, si ritornano anche a brindisi, che costumano i modi e l'altro più maschio dentro casa. Gioca in casa il calabrese Marcello Fonte, vincitore nel 2018 della Palma d'Oro a Cannes, il quale ci racconta come nasce il suo coinvolgimento nella compagnia. Io stavo lì a assistere alle prove, documentavo un po' la compagnia, stavo in un posto occupato, il Cinema Palazzo a Roma e mi piaceva l'arte, mi piaceva, allestivamo il palco ogni giorno, facevamo uno spettacolo diverso ogni giorno. C'è Valentina, arriva, gli serviva lo spazio per fare le prove e hanno provato questo spettacolo. Poi questo Ruggero, questo lo dedico a Ruggero oggi, a te Ruggero, che non ci sei più, ma ci sei sempre con noi. E niente, ho indossato le sue scarpe e avevo imparato la parte perché a furia di ascoltare e ho sostituito il Ruggero. Ho iniziato a lavorare con loro. Il teatro ti salva la vita, ed è vero, pure a me mi ha salvato la vita. Io sono andato via dalla Calabria quando avevo 19 anni, perché comunque ce l'ho posto di tranquillamente, perché ho avuto problemi, avevo preso brutte strade. e niente, l'arte mi ha fatto proprio prendere una strada diversa. Mi ha dato una cosa che mi sono dimenticato di tutto il resto. Quindi mi concentravo sul lavoro e quindi l'arte ti migliora, ti salva la vita. Grazie a tutti.